La nostra regione è interessata da un campo di alta pressione con contributo subtropicale in curta che garantisce condizioni di tempo stabile e temperature lievemente al di sopra della media del periodo. Una situazione destinata a cambiare nel corso di questo fine settimana a causa dell'inserimento di una modesta circolazione depressionaria, la quale costringerà l'alta pressione ad arretrare e a rimandare pertanto l'inizio in grande stile della bella stagione. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 5 giugno, condizioni di cielo poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità, specie nelle aree a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio non si esclude la possibilità di qualche breve rovescio nelle aree interne tra il Sannio e l'Irpinia. Più soleggiato invece lungo la costa e sul settore meridionale della regione. Temperature senza particolari variazioni con valori compresi tra i 24 gradi centiclidi della costa e i 28-30 gradi delle aree più interne del Cilento. Venti deboli di direzione variabile e mare quasi calmo poco mosso. Domenica 6 giugno cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica dove saranno possibili isolati rovesci, specie sul settore centro-settentrionale della regione. Temperature lieve diminuzione dal pomeriggio, venti deboli a tratti moderati da sud-ovest e mare da poco mosso a mosso. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione subirà un netto ridimensionamento per l'inserimento di aria via via più fresca e in quota proveniente dall'Europa nord-orientale. Questo determinerà un'accentuazione dell'instabilità che darà luogo a rovesci temporaleschi segnatamente nelle aree interne nel corso del pomeriggio, temporali che saranno più probabili nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 giugno. Le temperature subiranno una temporanea diminuzione nelle aree interessate dalle precipitazioni, ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.